Come nasce la sua candidatura a sindaco di Vallefoglia? La mia candidatura a sindaco di Vallefoglia non nasce dallo genio umani in quanto ho dei precedenti, sono stata consigliere comunale nell'ex comune di Colbordolo, poi fuso insieme a Sant'Angelo e divenuta così la città di Vallefoglia e sono stata candidata nel 2019 sempre per le amministrative qui a Vallefoglia come sindaco. Diciamo che vivo il territorio, sono nata, risiedo qui a Talacchio in una frazione piccolina del comune di Vallefoglia e ho sempre creduto in una comunità legata e coesione tra tutte le persone, questo fatto di riconoscerci in un territorio comunque sia molto importante, fatto comunque di colline e di città perché Montecchio si è sviluppato ormai come una grande città, quindi credo e penso che potrei portare sempre il meglio a Vallefoglia mantenendo tutti i servizi già esistenti comunque se non facendo anche di meglio, oltretutto sono una figura femminile, potrei cambiare anche il colore, portare anche le idee un pochino magari più arricchite, un pochino più approfondite anche nell'ambiente familiare essendo anche sposata e ho dei nipoti, sono già nonna. Parliamo della sua lista, una lista che all'interno presenta persone, nomi noti al territorio. Certo, abbiamo persone del territorio, fanno parte alcuni imprenditori della zona, abbiamo dei ragazzi, abbiamo cercato di prendere tutti i candidati che rappresentassero le vaglie fasce di età, quindi ci sono anche pensionati e crediamo che possano fare un buon lavoro insieme a noi nel territorio anche perché sono quelli che capillarmente nel territorio riescono anche a portarci le problematiche. Quali sono i vostri obiettivi e quindi parliamo del programma elettorale? Puntiamo molto comunque sulla sicurezza visto che si parla molto spesso di microcriminalità nel territorio e contiamo di poter avere un'istruzione migliore nel senso di trovare collaborazione, di portare un biegno di scuola tecnica nel territorio di Vallefoglia anche per agevolare il costo delle famiglie per il trasporto scolastico. Un altro problema importante a Vallefoglia è il problema abitativo in cui abbiamo sinceramente discusso questa problematica, magari si potrebbe trovare collaborazione con delle agenzie del territorio e il comune per se stesso potrebbe alleviare il peso del costo delle famiglie su vari oneri per almeno 5-10 anni. Come proposte ne abbiamo tante sinceramente e parlarne in poco tempo sarebbe difficile. Siamo disponibili a parlare con la popolazione, qualsiasi persona comunque della città di Vallefoglia può chiamarci, può contattarci. Non abbiamo problemi a spiegare nel dettaglio anche tutto il programma perché è molto vasto. Ho sempre creduto nel futuro, credo molto nei bambini, l'educazione specialmente per riuscire a sopperire a certi atti magari di maleducazione, mettiamola così, deve venire da bambino. I bambini hanno le loro famiglie ma come tutti sappiamo c'è un problema che la famiglia deve lavorare. Quindi dei centri di aggregazione aperti a tutti, dai piccoli e grandi dove ci sia modo di riuscire a comunicare e a crescere con armonia tutta la cittadinanza. I bambini sono il nostro futuro, noi crediamo molto nei bambini e nei ragazzi, dobbiamo dare un futuro comunque sia alla gioventù di Vallefoglia. Penso che il centro-destra per Vallefoglia sia un'occasione, un'opportunità giusta in questo momento per poter fare un cambio.